Noi saliamo sopra Questo ma la sirene, chi ora so? Sul nuovo Dai piccioni oh Però eh, dove? Tu vuoi salire? No, no, no Campanare, campanare Buongiorno Pazzicci, ok Allora Buongiorno Buongiorno Gli amici? Ci sei? Ci sei? Qua siamo arrivati sul campanile Tutto il campano Monsignor Attilio Mauriello Arciprete Quello Buongiorno Sì Buongiorno 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 Ci sono inizialmente il paesino ecco San Andrea ha visto la campanile la chiesa come stu si vede? si vede? allora ma l'orologio si vede? l'orologio è sotto da me o sotto? è sotto i piedi sotto i piedi l'orologio scegliato l'orologio scegliato l'orologio, che c'è? che c'è? Invece, sta campana è del 1700, dimmi come suona, vediamo un po'. Grazie a tutti.